direi che possiamo continuare qualsiasi cosa che dovrebbe fare, ho poison ivy ho poison ivy fighe prima quindi no no cosa dovrei mai fare? sconfiggere questo? ok ah ah, lei ok ehm, bilko ok eh vai ecco, qualsiasi cosa sia hm chi è questo? potrebbe farlo chiunque potrebbe farlo chiunque ah no, io non chiunque ah ok ok com'è com'è eh po' eh, però eh ahia non è il mio piano, eh vabbè qui so' ritardato Vabbè Ok Ehi Non avete un'aria molto ecologica Oh bella Non potremmo spararvi direttamente la telecamera Sarebbe stato troppo semplice Ok Vai vederci Ok Ok Vai Ivy Vai Bill Quindi li ha cazzotti tutti Ok 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 Pamma primo colpo Ok Vai confido in te Atletica la ragazza Penso che la possano fare tutti Tranne dal shot Questa cosa qui Ok Benissimo No aiuto Non sapevo che anche lei Non sapevo che anche lei avesse l'esplosivo Tutti hanno quanto per una bomboletta Tipo Per far esplodere tutto La copia Vediamo se riusciamo a raggiungere Quell'ascensore Certo Ma cos'è tutta questa roba Oh mammina Conosco questo posto È il set che usano Per quel nuovo show Con lo scienziato Che scambia il suo corpo Con quello di un cane Proprio il tuo genere di show Arley Ok ok Cerchiamo di non distrarci Finché non saremo fuori pericolo Inoltre Non voglio spoiler Sull'ultimo episodio Vabbè Ok Ah dai Ci ho a te E qui Passavo a volermi questa Ah vabbè La funzione è quella Arley Sei in mezzo ai coglioni Cosa sto raccogliendo Dei fiori Perchè cosa Perchè c'è un'astronave Un mucchio di domande Se vuol dire un mucchio Non ne voglio più Ok Ok Beh dai Abbiamo tutto Dove lo devo mettere? Qua E' il filtro Dai ognuno Appena un pulsante Dai ragazzi Non fate i disabili Ma quella è una scompa Geniale E lui Non è vero Sono tutti uguali Però queste piccole cazzatine Degne dei giochi Lego Ci deve essere un mucchio Non sono arrivato fin qui per nulla Stavo picchiando in bilco Bilco Ok Ok Ehm Sì Devi lasciarmi studiare il piano Allora Quella per Ivy Come siamo belli Da ciò Oddio Ok 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 Aiuto Bella No Non mi picchiare Poi No Ivy Ivy Ok Dovremmo esserci I controlli dello schermo devono essere qui Ah La clorocinesi Che cazzo è la clorocinesi Che cazzo è la clorocinesi Non sono per niente eroi E io ve lo posso dimostrare Gente di Metropolis Tenetevi pronti a stupirvi Arrabbiarvi E indegnarvi Abbiamo appena sgraffignato dei bellissimi giocattolini Forniti dalla Waystech Io e il capo andiamo davvero pazzi per le rapine Ci piace derubare chiunque sia troppo onesto per darsi al crimine Non è questo il video Mi dica che cosa pensa di fare signorina Tu 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 e tutti quei tuoi amici siete dei brutti copioni impostori No signorina Noi siamo quelli buoni Voi siete i miei Voi siete i miei Voi che mettete questa gente in pericolo seminando caos e disordine Io scommetto che il vostro intento era di distrarli Così da poterli derubare meglio Ehi Non trovo il mio aralaggio Oh no La mia preziosa collana Il mio telefono Come si permette di impandare il tuo nome del sindacato della giustizia Oh no Accidempoli Dov'è il mio capo quando serve? Il rispettoso dell'ambiente Io me lo segno Riempite la barba Cazzo no Aspetta Allora Io guardo attentamente I mattoncini D'oro Perché voglio capire Come cazzo viene ancora? Ok il criterio Livello completato Perché quando servo me ne da solo uno? Va bene Mi faremo un attimo Direi che possiamo andare avanti Sono andato in palestra A fare un sacco di cose Ok È il momento Di andare avanti Forza Bob Il dottore vuole vederti Ancora dall'ostrezza cervelli Dottiamo fuori più o ne? Servono delle torte fresche Con quale parcitura? Ciao Joker Lex Ma sei un fantasma? No Non sono un fantasma Mi servi tu e tutti i prigionieri di Arkham che riuscirai a radunare Vediamoci al palazzo del fato Vabbè tanto avevo finito le torte Fammi uscire e sono tutto per te E bravo clown Ti basterà sintonizzare la tv della guardia sul canale 52 Sbaglio voi due parlavate di un'evasione Avrei fatto una pistola congelante con molle del letto e sapore Ma Captain Cold non l'avevamo già preso? Cioè non ero già con noi Me lo ricordo già con noi Dove cazzo sei? Ok Ok Un attimo è che devo sistemarmi il filtro Antipop Ahahah Di nuovo bucciavo Eh Che faccio? Ah così? Dimmi tu Ah ok 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 Va benissimo Ehi Piantala Ti abbiamo ridato l'armatura e tutto il resto A condizione che non l'usassi a scopi malvagi Un passo falso e ci riprendiamo tutto quanto Ok Ancora lì? Va bene Ah io non l'avevo già Va bene Non mi faccio domande Ok Anche più piano Ok Anche più piano ok ora vieni qua si puoi vieni no 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 che cazzo come ha messo il gioco ok no che cazzo fai ok ok va bene anche mantenendo il sangue freddo non posso farlo ok no 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 non tirare delle torte esplosive vieni qua così eh minchia vabbè basta vabbè va stile non lo sai mai ok 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 aspetta ok bellissimo bellissimo sto attivando uno stargate tipo hai sentito jimmy la sta succedendo qualcosa che cosa pensi che sia lois non saprei però dopo gli ultimi avvistamenti di harley queen ho paura che non sia niente di positivo era ultraman quello che volava là dentro fanno qualcosa di decisamente criminale se ultraman e gli altri viceroi sono qui scopriremo cosa succede come possiamo ma la telecamera scarica non sarà poi tanto noioso ma quella è un'area riservata ai VIP lois non abbiamo i biglietti dubito se è importante che è io coraggio joker da qui si scende ai piani inferiori povincella sorrino si guarda buona idea di quanto sono rimasti in cella amico mio ok la parte più facile è fatta adesso dove andiamo? beh si improvvisa controide amon celaten ma di sicuro i nostri amici ci aiuteranno a uscire da questa foglia andiamo a chiedere aiuto che dici? brando allora fanculo 0-4 ok bellissimo bellissimo giocherino vieni vai picchia prendi tutti a cazzotti non ho visto gente stare benissimo ok va benissimo ok ma cosa lì è esploso il tuo capo alla voi ok 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 va bene cazzotta cazzotta no no vedi che così magari si stava a carico di salvo di salvo ora tu vabbè l'ho congelata ma non credo di poter ridimensionare lei ah si diventa una saletta immagino una leva bravi ragazzi ok che cosa abbiamo qui tanti flash davvero li hanno catturati no niente sono ritardato ma prima ho detto non faccio un po' non è meglio perché sono ritardato e mi mandano anche i messaggi per qualche motivo a mio scuro ho già 4 visualizzazioni in un giorno il video no flash non mi riesco a utilizzare il video il primo video di questa serie va bene buono gioca oh grazie aspetta no si no buono perché vuoi che faccia però aspetta aspetta che aiuto abbiamo ok anti flash ok no 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 posso farcia ok mi sembra un'operazione è troppo complessa vai ah beh giustamente lui è veloce quindi anche veloce nel costruire ah ecco giusto mi ho dimenticato quale è l'obiettivo quindi vale ok vai ok buono niente cominciamo a fare cazzo che faccio ma chi ha una dittatura voi fate quello che voglio io venite qui dove sta ma quell'altro cosa sta facendo vai ma che cazzo ma però ma non ho colpe ma c'è non ne ho colpe aiuto buongiorno di nuovo si lo so non sono molto regolare con i video però mi addormento se mi addormento viene male ecco ti fai a giocare quindi ok ottimo eccoli la nostra via d'uscita ragazzi mettetevi al lavoro io potrei occuparmi del quadro elettrico ma prima dobbiamo riuscire a raggiungerlo credo che i miei poteri possano tornarci ok vado devo fare il labirinto dove sono ah e non ho opzioni è obbligatoriamente a possedere qui ok bella ehm così dov'è cazzo eh ok ok no merda ok ok andiamo di qua seguitemi ma che cattivega è bastato l'intrusione ai laboratori stano gente non è il momento merlin hai visto qualcosa che possa aiutarci a fuggire beh visto che le hai chiesto con gentilezza penso ci sia qualcuno dietro quel cancello che potremo persuadere ad aiutarci ma sta chiamando i rinforzi ehi fa chiamarli di nuovo i rinforzi di puttani di puttani pezzo di merda in che senso fai bingo ah ok combo per 10 e il capitolo è lì infermio immobile però eh fa un culo a me stesso Oh, però... sono matto Eh, ho capito Un ciccino bello Oh Ok Ehm, tu Ok Poi Qui Ma che cazzo Ok Sempre il Joker No Ok Aspetta Dio, launa Non tirava le torte No, non le tira più Va bene Vai Ok Ok Basta chumidare qualcuno per prendere le monete Ok 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 Così Mi manca un'altra cosa Ah, ok No 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 Ma Lui non può passarci Ah Ehm 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 Alto Posiziotto Vabbè dai, prossima parte No